Parte dal Mahara Hotel di Mazzara del Vallo, GROC, la rete del dono, il primo programma strutturale del Rotary Club International dell'area Drepanum per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Siamo con il governatore dell'area Sicilia, il dottor Francesco Milazzo. Allora in cosa consiste questa iniziativa? Allora questa iniziativa consiste in uno strumento che il Rotary International offre a tutti i Rotary Club, quindi non soltanto in Sicilia e Malta che sono le realtà che qui io modestamente rappresento, ma praticamente in tutti i paesi in cui il Rotary è diffuso. Di che cosa si tratta? Come giustamente chiede lei. Si tratta di uno strumento che permette ai Rotary Club di entrare in una utile correlazione con realtà accomunate dal fatto di fare del bene come il Rotary pretende di fare e le assicuro di fatto fa. E dunque realtà che possano con il Rotary collaborare in vista dei risultati positivi di benefici per la comunità che il Rotary e queste realtà presuppongono di realizzare. Quanto la Sicilia ha bisogno di un aiuto concreto nei confronti di queste case di accoglienza? Io credo che si tratti di problemi molto gravi che sono purtroppo diffusi a tutte le latitudini. Le esigenze di persone svantaggiate le quali trovano nelle case di accoglienza una soluzione provvisoria ma seria e sostanziale ai loro problemi che normalmente sono problemi molto gravi è un fatto che non si può trascurare che Temo abbia dimensioni ragguardevoli. Dunque il fatto che ci siano realtà non Rotariane e i Rotari che lavorino in questa direzione è una cosa che si può soltanto salutare con grande soddisfazione. Conformemente del resto a quello che è il motto fondamentale del Rotary che è servire al di sopra dell'interesse personale. I miei consoci che spenderanno il loro tempo, le loro energie, le loro conoscenze e perché no anche le loro risorse di carattere finanziario lo faranno senza un interesse personale se non l'interesse ma quello non è personale di fare del bene a persone che si trovano in una condizione di svantaggio. E' una missione che il Rotary persegue come ho già detto in tutte le realtà nelle quali esso è diffuso ed è diffuso larghissimamente nel globo perché parliamo di una realtà di circa 1.200.000 soci sviluppata in tutti i paesi i quali accettano il metodo democratico come fondamento della vita associativa. Dottoressa Licata ci racconta quando e come è partita questa iniziativa. Beh questa iniziativa è partita da una straordinaria sinergia che si è creata tra le presidenti dell'area del Repanum. Ci siamo accorti quest'anno, in quest'anno Rotariano, di essere molte donne alla guida dei vari club dell'area del Repanum e allora ci siamo messe insieme in perfetta sintonia, in perfetta sinergia e abbiamo dato vita ad un progetto che poi è diventato, si è strutturato attraverso i GROC. Questo progetto e questo GROC ha un nome straordinario per noi perché è la rete del dono. Questa noi abbiamo fondato e l'abbiamo creata come primo GROC nell'area del Repanum e collaboreremo con i non rotariani per trasmettere anche un'idea, dare una percezione diversa del Rotary. Un Rotary meno rigido, più snello e soprattutto più vicino ai bisogni e alle esigenze di chi è stato meno fortunato di noi. C'è un episodio particolare perché tutto nasce da un famoso ballo. Noi ci siamo ispirate a quella che è stata una donna che è rimasta nell'immaginario collettivo organizzatrice di uno dei più grandi eventi di beneficenza, che è appunto la principessa Grace Kelly. Abbiamo fatto un ballo, l'abbiamo chiamato il Ballo della Rosa. Da questo ballo siamo riusciti a ricavare una somma e questa somma l'abbiamo donata ad una casa famiglia di Sala Paruta che ospitava un bambino che è affetto da una gravissima, da una rarissima patologia, gravissima patologia congenita. Con questi soldi questo bambino adesso potrà curarsi presso l'ospedale Niguarda e noi ci siamo sentite davvero ricche dentro forse per la prima volta nella nostra vita. La dottoressa Licata ha parlato anche della collaborazione con le non rotariane, abbiamo una esponente. In che cosa voi non rotariane trovate la forza per poter collaborare con il gruppo dei rotariani? Io sono l'assistente sociale che lavora nella casa famiglia dove abbiamo avuto modo di constatare l'esempio tangente dell'impegno del Rotary da noi attraverso appunto un incontro che c'è stato molto informale però che nella sostanza poi ha reso insomma sicuramente un vantaggio a un bambino che noi abbiamo ospite dentro la casa. L'impegno da parte mia è un impegno intanto perché credo molto nella professione che faccio e quindi credo molto nel sociale. Penso che da soli noi non ce la possiamo fare ed è grazie all'aiuto e all'impegno di persone come loro che sicuramente faremo qualcosa insomma di importante. Apporteremo il nostro contributo con la sinergia di intenti che c'è stata sin dall'inizio ma sondando nel territorio attraverso l'aiuto dei non rotariani quale sono le case di accoglienza che hanno un'esigenza particolare quindi l'aiuto immediato che si può dare a queste case di accoglienza. Per noi è un aiuto veramente concreto che ci porta a operare in territorio dell'area Drepanon, quindi nel Trapanese e aiutare a chi sta veramente ai margini della società perché abbiamo potuto constatare con l'esempio di Sala Paruta ma tanti altri case famiglia, case di accoglienza che ci sono nel territorio che c'è veramente sete e richieste di aiuto per cui il Rotare si muove a servizio di chi ha bisogno di esigenze che possono sembrare magari minime nel nostro quotidiano ma che per loro sono indispensabili come ad esempio portare un aiuto come abbiamo fatto anche oggi nel concretizzare la richiesta di materiale di uso didattico per i bambini che si apprestano ad andare a scuola e che si ritrovano sprovveduti di tutto per cui aiutare in maniera tangibile andando direttamente noi non per un'esigenza di protagonismo ma per vedere e constatare quali sono le vere esigenze e quale ricaduta possa avere nell'immediato quello che noi riusciamo nel nostro piccolo a realizzare la collaborazione sarà quella di aiutare i non rotariani a fare quello che le istituzioni non fanno cioè a portare aiuto a quelli che ne hanno bisogno la nostra rete del dono è iniziata con le case di accoglienza perché il nostro ballo della rosa si rivolgeva in particolare alle donne e ai ragazzini vittime di violenza ma naturalmente non ci fermeremo lì perché la nostra attività sarà quella di aiutare i soci dei Grocco perché saranno non rotariani ad aiutare anche le famiglie che avranno bisogno non necessariamente quelli che fanno parte del gruppo Casa Famiglia quindi andremo dove c'è bisogno il nostro sarà un aiuto dall'esterno perché saranno i non rotariani a provvedere però con il Rotary che li affiancherà come ha sempre fatto in tutti i paesi del mondo a Mazzara del Vallo ci sono tante realtà noi abbiamo collaborato da tanto tempo con la Casa Orchidea col Filo d'Arianna tante situazioni che hanno bisogno di supporto l'abbiamo fatto anche senza l'istituzione del Groc ma questo ci garantisce istituire un Groc c'è un insieme di persone, di rotariani che fanno la rete per dare assistenza laddove ce n'è bisogno non nei punti che già sono strutturati o aiutati da strutture che già fanno beneficenza o già vengono aiutati ma strutture che spesso sono dimenticate come diceva oggi la responsabile del centro della Casa di Serenità strutture che hanno bisogno di tantissime cose tutto nasce per caso la rete del dono è nata per la voglia che avevamo noi donne di essere al servizio di altre donne che avevano bisogno ma devo dire che da quando è cominciato è stato un travolgersi ci hanno travolto gli eventi perché ci siamo accorti che eravamo già una rete del dono un Groc senza che lo sapevamo e questo è stato fonte non di essere dono nel mondo come dice Ravi Ramidran ma che noi riceviamo dono da queste situazioni perché ci hanno garantito sicuramente una grande soddisfazione psicologica noi siamo donne ma siamo mamme e aiutare bambini è sempre altissimo nel nostro interesse io arrivo da Pantelleria che per la sua situazione logistica è separata dalla terraferma però diciamo che questa attività mi ha dato la possibilità di lavorare in sinergia con la terraferma e quindi da non sentirmi isolata ma solo e semplicemente isolana e quindi lavorando in sinergia aiuteremo quelle che sono le case di accoglienza chi ne ha bisogno ma proprio ci occuperemo anche secondo me del vicino di casa che spesso e volentieri magari noi pensiamo a delle realtà che esistono che effettivamente hanno tanto bisogno ma magari il vicino di casa alle volte ne ha forse di più e quindi nel mio piccolo io cercherò anche di attenzionare questo cioè di attenzionare proprio il vicino di casa di essere veramente dono nel mondo e poi una cosa che ci tenevo a dire a ringraziare pubblicamente sia loro che mi hanno coinvolto in questo progetto sia quei ragazzi che abbiamo visitato oggi che veramente sono loro che ci hanno fatto un dono a noi e non noi a loro dandoci la possibilità di poterli aiutare cioè di poter essere lì assieme a loro da mamme tra le altre cose che è una sensibilità non da poco è stata una piacevole sorpresa essere coinvolta in questa esperienza quando si tratta di volontariato bisogna essere presenti e soprattutto quando si tratta di un'opportunità da dare al territorio attraverso la nostra presenza e come dare a chi ha necessità infatti il progetto si chiama la rete del dono dare la possibilità a chi ha necessità di un contributo quindi a bambini che sono nelle case famiglie a donne che sono state diciamo sottoposte a violenze e questo ci potrà dare modo ad essere appunto presenti nel territorio e di contribuire in modo concreto con la nostra presenza a alleggerire queste situazioni che sicuramente non sono leggere grazie grazie